Si è spento per cause del tutto naturali Rodney James Alcala, che era costui, era uno dei più feroci e sanguinari serial killer di tutta la storia americana. Si è spento, ripeto, per cause naturali, mentre stava per aspettare di essere giustiziato a San Quintino, nella parte settentrionale di San Francisco, Stati Uniti d'America. Veniva soprannominato come Dating Game Killer e ha fatto fuori ragazzi e ragazze a cui l'appuntamento, 77 gli anni che aveva, 130 persone circa che avrebbe fatto fuori, avrebbe ucciso e è una vicenda questa che ha delle incredibili. Pensate che l'uomo ha fatto fuori un sacco di persone e stava aspettando di essere giustiziato, però la morte naturale lui si è verificato, si è appalesiato e lo ha tolto alla vita. Vi ringrazio per l'ascorto, questo video di oggi termina qua, datemi le vostre opinioni, è stato davvero un sanguinario, in piena regola e tutti gli americani lo conoscono ed anche piuttosto bene. Iscrivetevi al canale narrato italiano, commentatevi, un saluto negato da Renandro e al prossimo video.